Siamo con il direttore dell'aeroporto di Bolzano, un'impressione sull'attività svolta e su quello che abbiamo fatto durante questa giornata. A prescindere dal fatto che svolgo l'attività di direttore generale, ma anche di compliance manager e di safety manager di questa azienda da oltre 15 anni, oltre al fatto che prima ho un'esperienza lavorativa nel campo aeronautico, anche come pilota comandante, di tanti anni, oggi aver fatto questo corso, come vi chiesto dall'autorità ENAC, questo corso mi ha dato un valore aggiunto perché ogni volta una persona nuova si affaccia alla nostra attività con occhi neutri e anche con uno sguardo preciso nota delle piccolezze che potrebbero sembrare piccolezze, ma ogni tanto sono anche cose importanti. Per esempio, come abbiamo visto nel nostro corso specifico, a livello di documentazione, che abbiamo margini per poter migliorare. Questo è stato un valore aggiunto per me nel fare questo corso, nel riagionarmi un attimino sulle novità che ci sono nell'ambiente dell'auditing, nell'ambiente della quality management, ma anche nell'ambiente del compliance monitoring. Pertanto è stato un corso per me interessante e per l'azienda utile, perché ci permette di poter mettere mano oppure di poter focalizzare meglio alcuni aspetti che, come sempre, possono necessitare di miglioramenti. Sappiamo benissimo che, pur bene che uno possa fare, margini per migliorare ci sono sempre.